ciao a tutti e benvenuti in una nuova live qui con lady valentine 89 e mia compagnia c'è siamo qui su nebula reans giusto andre l'ho pronunciato bene e l'abbiamo ripresa a giocare dopo parecchi anni specialmente io qui in compagnia l'avevo lasciata colpito per l'intenzione d'ordina Harley Quinn ovviamente non può mancare io praticamente non mi ricordo un ciucolo e se stai ferma lì mi manca tantissimo home che era migliore rispetto a questo era l'apice che è successo poi hanno chiuso quello dopo tutti i togli che ci hanno chiuspato a cadimento e l'hanno chiuso e poi si trova bene l'ha buttita un quarto è stata perfetta di no il poker eccetera eccetera e poi nebula è un pacco flop è di home non c'è nessuna tutta caccia e poi si cominciano a rontarmi intorno non per l'uomo ah ecco l'ho visto e dove sei perché so c'è uno che si sta abbonando ecco davanti eh beh c'è me lo like ah bello tu l'ho rilasciato così e l'ho modificato simbrigine di tecchino cosa vuole questo? ma il soldo è un fortunatore ma già inizio a scrivere cose poco promettenti ah è bella però me lo ricordavo sì l'avevo lasciato così sì 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 è bello bello eh ripeto mi dispiace come da finire male che roba le cose belle lì sopra eh vabbè Andre vieni qua dai questo giorno stanno prendo le scatole prima poi hai un po' di roba lascio osservato oh come la merda posso dirlo come le mosche sulla merda? sì 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 eh vabbè aspettate anche un po' di roba dove ce ne andiamo dai eh io non so come si scrive proprio così discriminazione eh un litigio in diretta? eh ma veramente sei tu che ti avvicini guardate ragazzi la Andrea ce ne possiamo andare in un altro luogo perché sai com'è non vorrei che hai capito eh sì sì ma proprio in un'altra zona perché io non mi ricordo nulla eh da qua se esci dalla porta vai a direttamente in diretta ok grazie meglio così perché sai vorrei evitare di litigare in diretta ecco ci darei ti raggiungo seguendo sì sì vorrei evitare di litigare in diretta vai vai sai com'è è qualche tempo c'è subito sì 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 esibizioni di del cazzo ci sono gli attacca briche proprio guarda no comment poi fossero italiani ci sarebbe più riscontro negativo positivo bocca e risposta ma quando sono in inglese cioè ci perdo proprio la volta no è sempre che ripeto pomeriggio c'era che c'erano quei due manca a rispondere mi ci metto sinceramente lascia il tempo che trovo ancora tutto per San Valentino che bello ma allora la giornata va ancora un pochino sì sì vabbè ma fa sempre che la giornata vedi a che versione sta 84 la divisa vorrei toccare queste scritte sai come si abbassano guardi io pure sono uscito un po' pago dovrebbe essere sempre mille tre puoi spostare ah l'ho tolta con R3 no perché non mi dà fastidio farvi vedere la gente aspetta un attimo oh sta volando oh scusami però ballarlo quindi che vola lì 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 alzi per il momento è giocativo qui fidata qui c'è una live noturna di puro carteggio che senti o no? non sento più niente ci senti? ci senti? ok 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 scusate eccomi qui scusate non sto capendo più niente non lo so, non l'ho dovuto staccare un pochino pure io eh, guarda, vabbè lasciamo perdere infatti è fatta apposta con un monaco e un baranzetto ma comunque si sblocano le ricontenze, vedi? vediamo ha bloccato degli occhiali a forma di stella ma vedi che le mettono ancora le cose ma poi aspetta il tuo teso, dove sei? ti vedo la figa non so, si vola stanno in giro ma cosa hai fatto? e come sai voi? non so perché le repliciamo non so, non so non so, non so non so, non so non so, non so non so non so non so non so, non so non so, non so non so, non so non so non so non so non so non so pazzo c'è mi stavo affogando con la caramella, vabbè ah minchia la morte in diretta fra poco ciao ciao a tutte belle ah ah ciao mattina ah bella baby ci sei pure tu ah bella bella allora allora io sono entrato in un posto assurdo Dani se ci senti prima c'era un profolone già che voleva litigare ma ok adesso che serve una paccabrigo di prima categoria tutta una costruzione vera è proprio il letto però ma non so non so un po' di che ma non so non so ma non so non che non so non Scusa, ci sono interferenze maligne. Scusa, ci sono interferenze maligne. C'era sempre da fare, tra poco devo fare come fantozi, vada via, vada via, ho capito così. Bello, ma anche quei capelli li avevi comprati pure, c'era una bella... Però prima erano blu e rossi, adesso sono così, si sono scambiati. Ah, beh, mi piace, si è vero. Questa era un gioco, però non mi ricordo che si faceva. Non so se l'hai mai fatto. Ah, no, vabbè, lo dovevi fare. No. E basta che ci fai X e ti pensi a fare una gara, dovevi fare qualcosa. Le davan premio, però mi sembra che erano i polsini, non vorrei sbagliare. Ah, fate fuori. Oddio, come stai vestiti? Che fai? Eh, beh, vabbè, cosa facciamo? Voglio prendi, voglio prendi? Eh, lì, allora, da gioco a quello, perché dava un prezzo, poi ci fa la cosa. Sì, sì, sì. Ah, sì, ok. Eh, se ne ha la fantozza, è proprio. Come senti, se vuoi io? Eh, come tu, ho compito, ho compito, ho compito, ho compito, ho compito, ho compito, ho compito. Non so se è nuovo, però, va, va. Sì, sì. Ah, ti aiuto. Ti chiedi? Io ritrovo notturno. Eh, sì, sì. Però non entro notturno. Eh, sì, sì. Però non entro notturno. Ah, ti chiedi? Ah, ti chiedi che pratica questo, bravo. Sì. Eh, tu? Eh, non so se non vedevo proprio, non so se non ce l'ho fatta, che non mi piace. Ah, ho vinto i braccialetti. Eh, hai visto? Eh, ci ho abbagliato molto. E' bello. Eh, mi sembra caduto qui, c'è l'aggo in bocca di casa. Oh, che bella questa scritta. Sembra Dynamite, quella di BTS. Vabbè, giochiamo di memoria, va. Farò cadere sicuramente. Ho capisco, oppure? Sì. Fino a qua ci siamo. Ah, questo è un nuovo? Beh, beh, eh. Eh, beh, beh. Eh, beh, beh. Eh, beh, beh. Eh, beh, 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 beh. Eh, ha bisogno qua, mi sa che. Eh, beh, 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 beh. Eh, non è più bravo. Sì. Ehm, non c'è mai raffigurato, vediamo. Ehm, non lo so se. 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 Un po' lì, non so dove era. Ehm, non lo so se. Ecco lì. Mi ando perso. Alzheimer, si guarda. Ok. Ok. Ah, sì? Ma è la mia voce oppure è il gioco? Chi è? No, non devo trovare. Ehm. Ok, sono arrivato a livello 7, vediamo un po'. Scusi, non mi investa. Scusi, non lo so. Ah, allora. Ok, livello 8. Ah, sì, vabbè ormai. Ah, no perché ho l'audio dalla televisione. Ehm. Cosa c'è più da fare qua? Livello 9. La mia voce è adesso. Adesso ci ha detto che è la mia voce. Non c'è nessun modo. Allora, mi almeno. Vabbè, guarda che cosa dice. Allora, come la voce è la mia voce? Guarda che cosa sta. Questa. Guarda che cosa è la mia voce? Guarda che cosa è. Che è successo, ma? No, stiamo provando, Allora, dopo la voce è la mia voce. Allora, andrò, a livello 11 brava no alzheimer assicurata guarda qui stascio visto che metti i punti ma dai tu hai visto che scandala proprio guardatemi poi c'è scandalo in diretta come giobastiani c'è quello che fa scandalo come si è quello scandalo proprio tu me lo chiamavi che bastianovic bastianovic? eh vabbè si bastianovic invece bastianovic ha gabbè freddato il nostro Kim Kardashian dei poveri quando li facevo da piccola questi giochi qui mi facciano togliere sempre le scarpe a ben normale però era un fastidio perché poi le depredavano sì il parco ha rotto un po' le scarole questo c'è più questo c'è da fare no è qua penso qui ci dovrebbe essere la gara con i progatti ah non vogliamo fare? sì eh non so se si può fare insieme vediamo ah sì ah sì ah no eh credo ah no non si guarda la spazio ah sì ah già mi dice che ci sei scusa è possibile la valentina non si guarda ah sì Vada dentro di un ragione di Tekken Vah beh f*****e devi accettare per il video tramite il gioco Prova a fare f*****games F*****s Ah sì 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Vedi se potevi fare il testo. Ah, drink, sì. È schifo. Ho visto? Da qua non penso che ci sia niente. No, qua è tipo un ritrovo, vabbè. E qui invece? Ah, no, non mi piace questo. Mi ricordo che era un po' incassinato. Andare qui sopra? Sì, sì, sì. Vabbè, comunque può cambiare un luogo tramite Spy Options. Ah, vediamo. Sarebbe la prima casella però, vedo. Ah. Qui che è nel primo, sembra che ci sono tipo i grattacieli, non la casa e sarebbero tutti i luoghi disponibili. Bello, bello. Dove andiamo? Ci sono due case nuove da vedere. Dov'è? A sinistra, vedi. Nexus è la piazza, poi c'è il Medium Village, West Valley Appartement. Ci voglio andare? E dove andiamo negli appartamenti allora, West Valley? Eh sì, sono quelli un attimo aperti, capito? Te le fanno aprire in modo... Sì, sì, ci ho cliccato. Sì. Allora, aspetto perché qua non si capisce niente. Sì, se... Vieni, andate la cucina. Eh, non ti posso sentare a quegli importunatori di prima, che fastidio. Ma poi c'è la parte, c'è la parte. Ma scusa, prima mi da a parlare, poi c'è la parte. Non lo piace. Non lo attendo. Non lo dico, c'è la parte. Ah, che bello, ma c'è la parte. Com'è? Ah, è vuota. Vuota? E' mezz'a vuota. Vedi se si può entrare. Uh, ma questa la davano proprio per... che fa attenzione a dare il proprio spazio, con i mobili da comprare, per queste cose. Ah. Sì, poi ci stilano i milo euro e ci dono l'account. Sti cazzi, dovevo farci la stessa cosa di home. No, ma in effetti ho preso solo quelle due coste. real dei limiti, ma è stasera, c'è la città. Ah, che riuscola. Il fantasma. No, aspetta, ti devo vedere. Assurdo. Assurdo. E' come quelle case tutte vecchie, tutte vicine, vicine. Vabbè. Vado, devo aspettare un po' cosa. Il villaggio medievale deve essere fighissimo. Quale? Il villaggio medievale. Eh, vabbè, ci vabbè, ci vabbè, ci vabbè, ci vabbè. Salute. Io ho consigliato proprio, che vabbè. Come un cinema di essi. Allora, vabbè, c'è la notte. Allora, non volevo. Riccata. No, no, no. C'è un nuovo po' di me. Come, non è una cosa. Eh. Eh, aspetta un attimo, che volevo cambiare un attimo. E' un bestiale, come si dice. Minchia, tra poco mi esplode la play. Eh. Oh. Eccola la sposa. Eh, beh, no. E' un'altra cosa. Ma noi diciamo che è normale. Eh, eh. Vuola di nuovo. C'è un 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 c'è. E' una coltivazione. Ah, no. Cos'è? Che fa? Ah, ok. Ok, sto per arrivare. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Penso ai colpi dei cuori rossi. Sì, ora ho capito, sicurati. è bello voglio fare pure io perché io stavo qui ancora che palla caricamento bello bello gli unicorni dove sono? no perché c'è lo sfondo galaxy è una figata oddio mi incute terrore quello lì di prima ah è vivo ho vinto e che ti ha dato? un parte palle cosa? non lo so ah no ti ha detto tipo torna domani non ho capito qualcosa ah quindi questa era qui ah sei tu e niente questo c'era da fare che sarebbe questo si 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 oddio non si può vedere si cammina così questo ah cammina tutto da fanno male ma sia non è buono come camminare no no infatti ok vediamo spara le frecce ok r2 ho capito e non si guadagnano altri premi capiuna che è satanata di queste cose sì bene c'era da una faccola ah torna domani ah torna domani per fare altri uccidi cupido ah vedi ma questo è un uccanismo 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Vediamo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti